Questo programma è offerto da De Caro Caffè, Caseificio Gioia, Just British, Coviello Vernici. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Ruggito Neroverde, il programma che vi conduce all'interno del mondo bitonto. Tanti gli argomenti di cui parleremo in questa puntata c'è da analizzare la sconfitta per 1-0 contro il Rotonda che ha inaugurato la gestione del duo formato da Vincenzo Santolubo e Francesco Modesto alla guida del bitonto. Ma ci sarà soprattutto da proiettarsi alla prossima partita contro la Gelbison. Tanti dunque gli argomenti che sviscereremo in compagnia dei miei due ospiti che vado subito a presentare. Michele Aprile, difensore del bitonto. Michele, ciao. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E poi un abitué del Ruggito Neroverde, potremmo dire uno dei padroni di casa del Ruggito Neroverde, Mario Sicolo, direttore del da Bitonto. Un caro saluto a tutti i fedelissimi Neroverdi che ci ascoltano da ogni angolo dell'orbe terraqueo, multimediale e non solo. Ormai anche il tuo saluto è diventato un po' il biglietto da visita di questa trasmissione. Perché bene, come qua. Però naturalmente a te tutto è concesso, direttore. Allora partiamo subito con le immagini della partita che il bitonto ha perso per 1-0 contro il Rotonda. Mandiamo subito gli highlights della partita e approfitto per ringraziare Danilo Mingirulli alla parte tecnica e WeWork che ci ospita all'interno dei suoi locali in servizio. E poi ne parliamo in studio. Abitetto fa festa il Rotonda, Corsaro contro un bitonto che nonostante il cambio di guida tecnica non riesce a dare una scossa al proprio campionato. I Lucani con l'1-0 rifilato ai pugliesi riscattano la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Barletta e si tirano fuori dalla zona rossa. I Neroverdi invece scivolano al penultimo posto. Nel primo tempo il Rotonda passa in vantaggio già al 14esimo. Cagliazzo viene servito in aria, poi lascia partire una conclusione imprendibile per Tarolli. E subito 1-0 per i Lucani. Un minuto dopo il bitonto risponde con Tedesco che non inquadra la porta. Sul palone arriva Figliolia che insacca, ma c'è fuori gioco. Gol non convalidato. Al 17esimo Tangorre si mette in proprio. Tiro dalla distanza, Sacco blocca in due tempi. Ci prova anche Figliolia. Conclusione in aria murata in corner dalla difesa. Ancora il numero 9 Neroverde sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Colpo di testa centrale facile preda del portiere. Si va all'intervallo. Ad inizio di presa è Rotonda, ha la chance per il raddoppio. Cagliazzo trova al centro aria. Fernandez che tuttavia sbaglia la mira. Sempre Fernandez, poco dopo prova l'Eurogold a centro campo. Tarolli è attento e mette in angolo. Il bitonto si fa vedere dall'altra parte con Marchitelli. Conclusione debole. Al 27esimo proteste in casa Neroverde. Tedesco trova la rete ma l'arbitro ferma tutto. Per un possibile tocco col braccio durante lo stop dell'attaccante. Partita che poi si complica per i pugliesi al 33esimo con la doppia munizione di Scardigno che lascia in dieci i compagni. Nel finale bitonto però ci crede sfiorando il pareggio in almeno due occasioni. Sacco è miracoloso sul tentativo ravvicinato di Tangorre. Sulla ribattuta arriva figliolia di testa. Caleggiari ci mette la sua di testa, pallone sulla traversa e poi allontanato. Rotonda che si salva e porta a casa il bottino pieno. Tanto lavoro da fare per Modesto e Santoruvo sconfitti all'esordio. Nel prossimo turno i Neroverdi saranno di scena ad Agropoli contro la Gelbison. Rotonda atteso dalla sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Cavese. Si riparte dal secondo tempo con il ponteggio di 2-0 in favore dei campani. Mario parto subito da te. Un bitonto anche volenteroso, anche sfortunato. Ma insomma un bitonto ancora convalescente dopo le difficoltà legate alla sconfitta contro il Nardò e poi al cambio di guida tecnica. La tua disamina? Vincenzo, questa è una partita che viene da lontano. Non si possono esaminare soltanto questi 90 minuti. È chiaro che alle spalle di questa partita c'è tutto il pregresso. Ci sono tutte le gare precedenti. Lo avevano detto chiaro e tondo i due mister in conferenza pre-partita che non avrebbero stravolto lo schema tattico della squadra. Infatti così è stato. Cioè nonostante hanno provato a dare più ordine, maggiore geometria alla squadra e questo si è visto anche in virtù di alcuni innesti soprattutto a centro campo che hanno dato quasi un maggior raziocinio alla manovra. E si è visto. D'altronde poi non è mancata anche una certa forza di reazione da parte della squadra dopo aver seguito un gol probabilmente per l'ennesima volta per una disattenzione o una ingenuità da parte di uno juniores ma non per questo vogliamo gettare la croce sugli under, attenzione. Però probabilmente ci fosse stato un ragazzo un po' più esperto avrebbe affrontato Cagliazzo senza tentare una scivolata fuori tempo per dire e tu però in quel momento sei passato in svantaggio e allora è dovuto di nuovo scalare il Mortirolo d'improvviso dopo essere partito su una pista pianeggiante improvvisamente si alza questa montagna da scalare all'improvviso. Quindi c'è stata una reazione peraltro anche con l'inserimento per esempio finalmente di De Michele esterno sinistro alto dove è riuscito a diventare anche una spina nel fianco per i rotondesi. Ci sono stati ben tre gol annullati peraltro alcuni in maniera anche abbastanza chiara e giusta uno un po' meno soprattutto quello che abbiamo visto nel filmato sempre di Figliolia di Tedesco chiedo scusa quindi voglio dire c'è stata una reazione da parte della squadra non c'era nel filmato anche un fallo che è stato compiuto ai danni di Tedesco su una palla a spiovere in area di rigore credo messa al centro proprio dal giovanissimo Samuele De Michele il nostro attaccante è stato spinto da Tergo l'arbitro non ha ritenuto giusto e opportuno in quel momento fischiare il penalty quindi c'è stato un segnale ora è chiaro che dovranno lavorare su questo segnale e cercare quanto più di non far sì che abbia un peso psicologico negativo sul gruppo perché tra l'altro come dire loro stessi ci hanno detto che hanno trovato uno spogliatoio scarico soprattutto sotto l'aspetto mentale perché così può succedere quando magari i risultati sono negativi e si accavallano un dietro l'altro in maniera quasi inesorabile Michele tu sei diciamo l'ultimo arrivato in casa Bitonto ecco sei arrivato in un momento particolare come sottolineava anche Mario la tua percezione diciamo dall'esterno di questo inizio di stagione del Bitonto palestrata anche se diciamo nel tuo caso parlare di esterno viste le tue visto che sei di qui è un po' diciamo curioso lo mettiamo tra virgolette diciamo sì no naturalmente parlare di quello che è stato mi risulta difficile non mi sembra neanche adeguato visto che non rientravo in quel contesto sono arrivato la scorsa settimana anche successivamente al cambio di guida tecnica quindi mi sono trovato in uno spogliatoio che comunque ha grande voglia di tirarsi fuori da quella situazione naturalmente come dice il direttore come ha detto il direttore sono situazioni che comunque magari mentalmente un po' tendono a condizionarti perché poi in ognuno di noi che scende in campo c'è quella voglia di far bene che viene a volte tramutata in ansia o a voglia eccessiva quindi diciamo penso che il ruolo degli allenatori dell'allenatore in questo momento è quello di cercare di dare più serenità possibile a un gruppo che giustamente magari ha un pregresso uno storico non positivo purtroppo fino ad ora domenica comunque penso che si sia vista una prestazione di una squadra che comunque non meritava di uscire dal campo con una sconfitta poi magari anche domenica l'episodio di un grande gol che è stato fatto anche dal giocatore avversario ripeto, continua un po' il discorso del direttore ci si trova poi subito in salita quindi mentalmente può non aiutarti però sicuramente penso dall'esterno voi avete visto le partite io non ho avuto modo perché la domenica ero impegnato diciamo con la mia precedente squadra di vedere le partite però domenica ho visto una squadra che ha reagito bene dopo il gol subito e che ha fatto di tutto per poter quantomeno pareggiare la partita che era forse il risultato dopo l'occasione di Simone di Figliolia all'ultimo era il risultato minimo che avremmo meritato però come anche ci siamo detti nello spogliatoio alla fine la rabbia del non aver raggiunto un risultato che meritavamo ci deve consentire di lavorare in vista di una partita importante contro una squadra importante allestita con un organico importante per poter fare bene quindi la rabbia del risultato non raggiunto ci deve proiettare a fare una prestazione importante poi domenica diamo uno sguardo ai risultati dell'ultimo turno e anche poi alla classifica chiedo supporto a Danilo Mingirulli alla parte tecnica undicesima giornata Angrinardò 0-2 Barletta Gravina 3-2 Bitonto Rotonda 0-1 abbiamo appena visto le immagini Gallipoli Fidelisandria 3-2 Manfredonia Gelbison 1-1 Matera Palmese 1-1 Paganese Casarano 0-1 Santa Maria Cilento Team Altamura 0-5 Fasano Martina 1-1 per una classifica che si delinea in questo modo Team Altamura guida il campionato con 23 punti seguito a quota 20 dal terzetto composto da Casarano Fasano e Nardò 19 punti per il Barletta 18 per la coppia Matera Gelbison 17 per Fidelisandria e Martina 14 per la Paganese 13 per il Rotonda 12 per il Santa Maria Cilento 11 per l'Angri 9 per Gravina Manfredonia e Gallipoli 8 per il Bitonto Chiude la graduatoria La Palmese a 7 punti Mario questa classifica in testa e in coda cosa ci dice? Ci dice che man mano che si va avanti innanzitutto non c'è una squadra a punteggio pieno il che sta a significare che questo campionato se possibile è ancora più equilibrato e incerto di quelli precedenti atteso il fatto che stiamo parlando del girone più difficile in assoluto di tutti i gironi della Serie D del quarto campionato nazionale italiano ci dice che la team Altamura per ora è davanti alle altre ma torno a dire il Fasano che pure secondo noi l'abbiamo visto e non è trascendentale insisto su questo il Nardò di Nicola Ragno data anche la grandezza del mister che in panchina sarà sempre lì e sarà minaccioso della Vetta come già tra l'altro è stato anche lo scorso anno e il Barletta è il centro che sappiamo è la piazza che conosciamo il Matera pure è ovviamente la Gelbison che è a ridosso della zona playoff che è lì è no ardimentoso verso la Vetta anch'esso che sarà appunto il nostro avversario il fatto che la classifica sia corta tra virgolette favorisce anche noi che siamo purtroppo penultimi avendo peraltro perso contro il Rotonda che poi si è allontanato d'improvviso se noi avessimo vinto addirittura l'avremmo sorpassato adesso invece si è tirato fuori dalle secche della zona playoff bisognerà necessariamente ripeto fare la corsa su chi quanto meno ha dimostrato di essere se non inferiore a noi almeno alla nostra altezza su quelle bisogna fare la corsa e comunque torno a dire perché fino a domenica scorsa con una vittoria ti tiravi fuori dalla zona playoff adesso diventa un po' più difficile perché nel frattempo si stanno staccando e le squadre che proprio non riescono a realizzare risultati positivi finiscono per rimanere nei bassi fondi Michele tu conosci molto bene questa categoria hai anche alcune delle piazze che in essa militano che in essa si trovano ecco tu hai militato fino a poco tempo fa in un'altra categoria ma ti chiedo anche dall'alto della tua esperienza c'è una squadra che ti ha impressionato di più delle squadre del Girone H e una dalla quale magari ti aspettavi qualcosina in più ma sicuramente le squadre che avevano allestito gli organici più importanti tipo Altamura Casarano Nardò io evidenzierei il fatto che non hanno avuto un inizio di stagione tolto la team Altamura ma se pensiamo magari a Casarano e Nardò che adesso sono lì hanno avuto un inizio di stagione non facile ci sono stati anche dei problemi in squadra e così via però io sono dell'idea che poi alla lunga se una squadra ha dei valori e quei valori emergono quindi pensando a quello che diciamo un po' casa nostra io sono convinto che il mister riuscirà a far emergere anche in ognuno di noi dei valori che messi a disposizione del gruppo possono consentirci di tirarci fuori se si pensa che la Fidelissandria ieri mi è capitato di leggere del cambio di panchina e c'era una statistica che nelle ultime se non sbaglio 7-8 partite aveva vinto una volta e ha 17 punti cioè 4 punti dal primo posto quindi la nostra fortuna è che comunque come diceva il direttore ancora una volta che non sbaglia mai è una classifica corta che ti consente con 2-3 risultati positivi non dico di slanciarti però di cambiarla notevolmente quindi questo equilibrio tra su e giù ci dà la possibilità di essere ancora secondo me più fiduciosi nel fatto che veramente poi basterebbe poco per ritrovare la giusta serenità e la giusta fiducia io ho detto ripeto se ci sono dei valori in un gruppo quelli poi alla lunga che siano tecnici ma soprattutto morali ti aiutano a tirarti fuori quindi io sono convinto che il mister farà un lavoro soprattutto sotto questo aspetto e quindi io sono molto molto fiducioso allora andiamo ad ascoltare le parole del presidente del Bitonto Calcio Antonello Orlino e del tecnico Vincenzo Santolubo e poi ne parliamo penso che il fatto che loro hanno fatto un tiro in porta e ha fatto un gran gol poi possiamo discutere se ci può essere stato un infortunio comunque ha fatto un gran gol sul piano dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla ai ragazzi assolutamente nulla hanno dato tutto abbiamo avuto delle occasioni penso che abbiamo sempre tenuto bene il campo probabilmente il primo tempo potevamo fare qualcosina in più sto vedendo anche certe situazioni che poi riesci a vederle in partita però obiettivamente il risultato ci penalizza troppo oggi sono abbastanza onesto quando uno merita di perdere è una sconfitta meritata mi dispiace per i ragazzi perché ti fa lavorare male la verità è questa sì diciamo che fondamentalmente io sono un ottimista di natura quindi penso sempre che ce la faremo perché poi alla fine noi lo vediamo anche diciamo l'abbiamo visto anche questa settimana nell'allenamento nell'impegno che ci hanno messo i ragazzi e poi alla fine oggi parliamo di una partita dove fondamentalmente abbiamo pressato per 90 minuti abbiamo fatto tre gol ci sono stati annullati una traversa incredibile un paio di occasioni dove con un pizzico di fortuna forse un rigore ci poteva stare però poi alla fine ti ritrovi così 0 a 1 ma noi sapevamo che poteva starci anche perché come diceva il ministro se voglio dire in una settimana si può fare ben poco però è da apprezzare l'impegno che ci hanno messo per 90 minuti 15-16 ragazzi perché poi chi è entrato dalla panchina è entrato anche alla grande quindi dobbiamo continuare così e sicuramente non si può essere sfortunati per per otto mesi quindi prima o poi ci sarà il il cambio di rotta e ci toglieremo le soddisfazioni che ci meritiamo Mario abbiamo ascoltato la dichiarazione del presidente del Bitonto Calcio Antonello Orlino che faceva già un discorso proiettato al futuro lo voglio fare anche con te però diciamo da da una prospettiva diversa cioè il il mercato l'interruzione momentanea del campionato possiamo dire che tra poco parte un'altra stagione caro Vincenzo è quasi sempre così e noi sappiamo meglio di tutti quanti quanto gli interventi adesso nella finestra la cosiddetta finestra autunnal decembrina fino a gennaio insomma interverranno sul mercato quasi tutte le società il rischio sarà sempre quello di trovare di fronte squadre ben diverse da quelle che si è affrontate in questo primo scorcio di stagione da un lato dall'altro quasi certamente anche il Bitonto dovrà intervenire sul mercato e tra le righe penso che lo abbia fatto capire già il DS Leonardo Rubini peraltro abbiamo noi oggi ospite uno che rappresenta a tutti gli effetti un rinforzo della difesa molti hanno detto ok viene da un campionato ma non un campionato inferiore tra virgolette e che poi bisogna vedere pure se la Premier League pugliese può essere definita inferiore almeno rispetto ad alcune squadre della Serie D però è un ragazzo che come dire ha navigato a lungo l'oceano della Serie D e non solo ha una grande esperienza soprattutto una grande sapienza come peraltro abbiamo avuto modo di soppesare dalle sue dichiarazioni e non potrà che fare bene soprattutto nel ridare equilibrio a quel settore difensivo a quel reparto difensivo che non è stato perché tra l'altro il Bitonto non ha preso grandi imbarcate c'è da dire questo non è stato così fragile però probabilmente ha bisogno di qualcuno che dia misura ed equilibrio e credo che Michele sia perfetto dico Michele ma per dire anche Muscatiello che è stato preso ed è un jolly peraltro e davvero può essere utilizzato di volta in volta a seconda delle esigenze tecniche e tattiche della squadra e terzo poi finalmente è stato come dire arruolato Santiago Chacon che magari io personalmente lo ricordo devastante qualche metro più in là domenica è stato utilizzato come mero sostituto di Pizzutelli a centrocampo perché probabilmente come registi puri non ci sono figure adeguate e quindi magari in quel momento doveva essere utilizzato lì io personalmente ripeto lo ricordo molto più incisivo se utilizzato a ridosso delle punte dietro al limite dell'area di rigore da questo lato poi dall'altro è chiaro che si dovrà intervenire io insisto sempre nella ricerca magari di qualche under non diciamo che abbia un minutaggio superiore almeno in questa serie perché può far tanta la differenza dal momento che la stagione è partita siamo già a buon punto della girone d'andata e giustamente ecco Michele parlo di Michele perché Michele è un over è un veterano Michele potrebbe essere il profilo giusto di Signores che è in grado di farsi carico dei ragazzi dei giovani perché probabilmente tocca agli over far da maestri cioè indicare la strada dal momento che abbiamo dei ragazzi sin troppo in plumi che magari vengono direttamente dai campionati Junior e non hanno mai effettivamente calpestato l'impiantito del palcoscenico tipico della serie D e allora Michele con la grande esperienza che ha e dico Michele ma anche qualcun altro probabilmente qualche altro veterano dalla personalità abbastanza sagomata e beh Michele dico Michele ma per dire un over si possono fare carico dei ragazzi che finora abbiamo visto avere delle buone potenzialità possiamo dire Fioretti lo stesso di Michele quando ha giocato Grumo che hanno delle buone potenzialità e magari dovrebbero essere quasi tra virgolette educati cioè trascinati portati condotti verso un miglioramento più omogeneo e più completo di quella stessa personalità della loro identità tecnico tattica calcistica poi per il resto se dovessero arrivare degli under ma è un po' difficile adesso trovarli sul mercato che abbiano già fatto esperienza in quarta serie tanto di guadagnato e poi c'è anche il fatto a di là delle giuste considerazioni che facevi tu sul mercato anche secondo me anche la possibilità di incidere di più da parte di Santoruvo e Modesto perché è chiaro che in questo momento sono tra virgolette saltati sul cavallo in corsa magari con la pausa invernale con il mercato avranno la possibilità magari di incidere con un lavoro più profondo guarda quando senti i nomi di coloro che sarebbero stati gli eredi della panchina post Valeriano Loseto che voglio dire resta comunque un grande condottiero ci tengo a sottolinearlo al di là diciamo delle vicissitudini di questa stagione tutt'altro che positive però diciamo che resta un grande condottiero una volta nei momenti in cui sono stati scelti loro come successori abbiamo pensato come effettivamente fossero quando erano loro a calpestare l'erba erano ricoprivano ruoli antitetici e quindi potevano tranquillamente completarsi perché Vincenzo era un attaccante fulminio e callido Francesco lo conosciamo un po' tutti era un difensore robusto e arcigno quindi sono perfetti nell'integrarsi probabilmente e quindi potrebbero effettivamente dare un occhio abbastanza competente ai due settori nevralgici l'attacco e la difesa nel centro appunto la metà del campo la linea mediana e loro probabilmente apporteranno credo anche qualche piccola correzione tattica rispetto al classico 3-5-2 del mister precedente e probabilmente sì da domenica forse si comincerà a vedere o l'altra ancora se non addirittura l'altra ancora si comincerà a vedere la mano dei due allenatori Michele a te invece voglio chiedere regganciandomi anche alla considerazione che faceva Mario in precedenza ecco tu sei già stato abbiamo detto hai militato in diverse squadre che compongono il girone C sei stato anche a Bitonto quindi per te è un ritorno ti chiedo questo ruolo diciamo di tra virgolette guida magari nei confronti dei compagni più giovani diciamo come lo vivi? ma è una cosa che sicuramente mi fa mi fa piacere perché sono stato tra virgolette dall'altra parte anch'io quindi io mi reputo fortunato perché ho sempre vissuto spogliatoi importanti in piazze importanti quindi con con giocatori importanti che mi hanno dato tanto quindi avendo avuto dall'altra parte sempre qualcuno che avesse una parola in più un consiglio in più poi naturalmente sta anche al giovane aver voglia di rubare di imparare di ascoltare di essere se possiamo dirlo poco permalosi perché molte volte un rimprovero non è un rimprovero ma è un consiglio poi naturalmente c'è modo e modo per farlo quindi poi ripeto da bitontino a bitonto una responsabilità è anche un orgoglio maggiore poter contribuire a quello che poi è l'obiettivo della società però ti ripeto sul discorso di guida è una cosa che mi carica di se possiamo dire così di responsabilità ma più che di responsabilità di piacere perché sappiamo che nella crescita di una squadra soprattutto in Serie D con la presenza obbligatoria di quattro under in campo sono ricoprono un ruolo fondamentale quattro in campo più molti pronti fuori diciamo che in un organico metà squadra è composta da under e far lavorare dare una cultura di insegnare diciamo una cultura di lavoro un modo di affrontare la settimana alla fine di giovamento per tutti perché si alza la qualità dell'allenamento si alza l'intensità dell'allenamento e poi quello che uno fa in settimana lo porta lo porta domenica io dico sempre ai ragazzi con cui mi mi trovo a vivere gli spogliatoi di essere di essere ambiziosi nel senso di non accontentarsi di quella che può essere la realtà momentanea in qualsiasi spogliatoio in cui sono stato cercare sempre di migliorarsi di lavorare quotidianamente oggi è anche difficile magari trovare questa predisposizione per via delle tante distrazioni che ci sono però i ragazzi che ho avuto modo di conoscere mi sembrano tutti dei ragazzi predisposti a lavorare e certo come diceva il direttore sta a noi dargli anche trasmettergli quella serenità che in questo momento magari a loro può pesare di più rispetto a un over bene siamo addirittura di arrivo e cominciamo a proiettarci già verso la partita di domenica prossima contro la Gelbison fischio l'inizio alle 14.30 e vediamo proprio l'ultimo impegno in campionato della formazione che domenica affronterà il bitonto la solita disattenzione difensiva la solita reazione di nervi e un po' di sana fortuna mai vista al miramare si traduce nell'1-1 contro la forte Gelbison il pomeriggio del Manfredonia un punto che alimenta speranze e certamente utile nell'economia della classifica Franco 5 recupera l'acciaccato Ernaez per la panchina assenti forte e tormina in difesa così come il pubblico sugli spalti ma questo ormai non fa più notizia rientra con Ate che forma con Viti Bamba e Barbosa una difesa inedita occasione per Principe a centrocampo Calemme Pozzabone e Babà in attacco grande tenore tecnico nel 3-5-2 della Gelbison di Alessandro Monticciolo Manzo guida le operazioni in mezzo al campo Croce e Buvas completano il 3-5-2 è proprio dell'ex Andre Cavese il primo tentativo di giornata non male la soluzione a giro così come la pronta risposta di Paduano ci riprova al nono l'argentino delizioso velo di cruce lo mette in moto ma la conclusione è strozzata rispetto per l'avversario ma nessuna forma di paura per il Manfredonia a metà frazione i bianco celesti protestano per umani di De Pasquale in area campana ma il signore Jacopetti non ravvisa alcuna infrazione l'equilibrio si spezza al 43 la difesa di casa sbaglia completamente la trappola dell'offside Croce scappa salta Barbosa e deposita le spalle di Paduano per l'1-0 Gelbison Campani in spolvero anche in avvio di ripresa Dellino vince un paio di rimpalli ma in precario equilibrio trova solo l'esterno della rete il Manfredonia fatica ad aprire la cernina difensiva ospite Babai testa la soluzione dei 20 metri palla alta trova miglior sorte l'attacco si pontino al 67esimo Calemme elude Camilleri con una gran sterzata contatto e calcio di rigore dagli 11 metri il neo entrato Cesario batte Milan per l'1-1 l'attaccante ha sulla testa addirittura la palla del sorpasso al 73esimo ma non riesce a dar forza la bella soluzione dello scatenato Calemme fa paura quando attacca la Gelbison Croce svetta su viti ma per fortuna di Paduano è solo palo film già visto all'82esimo ancora Casiello in corsia ancora Croce ancora un legno a salvare la porta del Manfredonia Rosso-Blu punta dal bottino pieno Croce verticalizza per Dellino che fa tutto bene ma si imbatte nell'ottima respinta bassa di Paduano a conti fatti è un punto guadagnato per il Manfredonia l'11 di Franco 5 a lungo in debito con la sfortuna in questa stagione accoglie di buon grado il pari odierno la classifica resta complessa ma questa iniezione di fiducia può far bene in vista del prossimo turno per i Sipontini appuntamento esterno contro il Nardò secondo della classe Mario una tua disamina su questa Germison che squadra dobbiamo aspettarci domenica abbiamo anche tanto altro Croce e tanta delizia e ce l'hanno tutta loro anche perché mi sembra che insomma ho sentito anche fare il nome di Manzo che è stato non soltanto ex Fidelix ex Cavessi ma è stato anche ex Vitondo lo ricordiamo bene sì hanno una rosa notevole di grandissima qualità è stata essa stessa allestita per traguardi sicuramente luminosi d'altronde credo che per puro caso abbiano pareggiato con Manfredonia non sarà assolutamente semplice io ripeto probabilmente non sarà questa la domenica nella quale esaminare analizzare nel dettaglio l'operato dei mister e quindi cioè di Francesco e Vincenzo e anche poi magari la prestazione dei ragazzi che sicuramente si annuncia promette di essere Leonina come lo stemma del Bitondo e sicuramente lo sarà poi magari tutto quello che verrà sarà tanto di guadagnato però non sarà semplice fare risultato ad Agropoli ripeto perché l'avversario è davvero di grande prestigio e grande forza Michele che avversario vi aspettate di trovare domenica? Sicuramente è un avversario arrabbiato perché ha perso penso due punti come noi gli abbiamo persi per gli episodi a nostro sfavore anche loro abbiamo visto che ci sono stati degli episodi che non gli hanno girato nel senso nel verso giusto però penso che molte volte quando poi uno si trova ad affrontare una squadra importante perché realmente è una situazione sia societaria che tecnica importante con un passato recentissimo in Lega Pro molte volte bisogna essere sia sicuramente uno stimolo è uno stimolo in più e poi bisogna essere bravi in campo ad azzerare i valori cercare di capire alla fine è una partita che uno si deve giocare con equilibrio ma guardando secondo me poco la classifica perché poi ripeto loro arrabbiati noi anche di più stiamo lavorando stiamo preparando una settimana una settimana importante io mi auguro che ci possa essere subito quell'episodio quella scintilla che poi accenda un po' riaccenda l'entusiasmo l'entusiasmo la fiducia la serenità un po' di tutti quanti bene prima di salutarci diamo uno sguardo al programma della dodicesima giornata in programma domenica non solo Gelbison Bitonto si disputeranno anche Nardoman Fedonia Team Altamura Fasano Casarano Santa Maria Cilento Fidelisandria Barletta Derby della Bat atteso e tutto da seguire Gravina Paganese Martina Angri Palmese Gallipoli e Rotonda Matera dunque siamo giunti al termine di questo appuntamento con il Ruggito Nero Verde l'appuntamento è per giovedì prossimo sempre in diretta su Radio Doppio Zero ringrazio Danilo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica ringrazio anche WeWork per averci ospitato e soprattutto ringrazio i miei compagni di viaggio in questa puntata Michele Aprile difensore del Bitonto Calcio grazie a voi e un abbraccio ai telespettatori e Mario Sicolo grazie a te a Michele e a tutti i fedelissimi Nero Verdi bene allora vi invitiamo a restare collegati con i canali social del Bitonto Calcio e a seguire la sfida di domenica tra Gelbison e Bitonto lo ricordo ancora fischio di inizio alle 14.30 il Ruggito Nero Verde invece torna giovedì prossimo ciao questo programma è stato offerto da De Caro Caffè Caseificio Gioia Jazz British Coviello Vernici WeWork www.weworkpoint.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.